Davanti alla pervicacia nel male del nostro governo criminale viene spontaneo un sentimento di odio, di vendetta, un desiderio di male nei loro confronti, che sarebbe peraltro tutto meritato. Ma questi sentimenti purtroppo noi sappiamo che non vengono da Dio, ma vengono dal malvagio, dal demonio, che suscita odio, vuole che l'odio cresca e soprattutto che cresca nel cuore dei buoni, di coloro che sono fedeli a Gesù, per poterli precipitare nell'abisso dell'inferno anche loro, non solamente i malvagi oppressori, ma anche gli oppressi, perché anche loro si possano dannare. Ho trovato grande consolazione in queste parole di Gesù a Maria Valtorta, che trago dai quaderdi nel 1943. Dice Gesù Vorreste che io venissi e mi mostrassi per terrorizzare e incenerire i colpevoli? Oh miseri, non sapete quello che chiedete. Purtroppo verrò, dico purtroppo, perché la mia sarà venuta di giudizio, e giudizio tremendo. Avessi a venire per salvarvi, non direi così, e non cercherei di allontanare i tempi della mia venuta, ma anzi mi precipiterei con ansia per salvarvi ancora. Ma il mio secondo avvento sarà avvento di giudizio severo, inesorabile, generale, e per la maggior parte di voi sarà giudizio di condanna. No figli, che chiedete al padre vendetta, mentre egli è padre di perdono. Se anche il mio volto balenasse nei vostri cieli, e la mia voce che ha fatto i mondi tuonassi da oriente a occidente, le cose non muterebbero, ma soltanto un nuovo coro di blasfemo, di insulti, ma soltanto una nuova ridda di ingiurie sarebbero lanciati contro la mia persona. Ripeto, potrei fare un miracolo, e lo farei se sapessi che poi voi vi pentite e divenite migliori. Voi, grandi colpevoli, che portate i piccoli a disperare e a chiedere vendetta, e voi, piccoli colpevoli, che chiedete vendetta. Ma né voi, grandi colpevoli, né voi, piccoli colpevoli, vi pentireste, e non diverreste migliori dopo il miracolo. Calpestereste anzi in una furia di gioia colpevole i corpi dei puniti, demeritando subito al mio cospetto, e vi montereste sopra per opprimere a vostra volta da quel trono fondato su una punizione. Questo vorreste, che io colpissi per poter colpire a vostra volta. Io sono Dio, e vedo nel cuore degli uomini, e perciò non vi ascolto in questo. Non voglio che vi danniate tutti. I grandi colpevoli sono già giudicati, ma voi tento di salvarvi, e quest'ora per voi è vaglio di salvezza. Cadranno in potere del principe e dei demoni coloro che già hanno in loro la zizzania del demonio, mentre coloro che hanno in cuore il grano di frumento germinante, l'eterno pane, germoglieranno in me, vita in vita eterna. Ecco, vedete, la prospettiva di Dio è una prospettiva di amore, di misericordia, di desiderio di perdono, di salvare tutte le anime, tutte, tutte, anche quelle dei malvagi, anche quelle di Draghi, anche quelle di Mattarella, anche quelle di Speranza, anche quelle dei peggiori dittatori della Terra. Queste parole sono scritte, dettate da Gesù a Maria Valtorta durante la Seconda Guerra Mondiale, quando c'erano Hitler, c'era Stalin, c'erano i peggiori dittatori. Eppure Dio ha questo desiderio di salvezza, di amore, anche per i grandi, grandissimi, terribili criminali della Terra, i peggiori dittatori, come li abbiamo anche adesso. In Dio alberga un sentimento di salvezza, un desiderio di salvezza per loro. Allora, cosa vogliamo essere noi? Come quei criminali che hanno goduto, hanno sputato sul cadavere dei dittatori uccisi dopo la Seconda Guerra Mondiale? che cosa hanno avuto in cambio? Si sono insudiciata la propria anima con questo gesto vile, orrendo, di odio. Da dove viene questo sentimento? Non da Dio, viene dal demonio. Allora chiediamo a Dio davvero che in noi alberghi un sentimento di amore, che il nostro cuore sia come il cuore di Gesù Cristo, che anche davanti a Giuda, anche davanti ai sommi sacerdoti, anche davanti ai peggiori, i peggiori farisei, ipocriti, menzogneri, aveva un sentimento di amore, cercava la loro anima, cercava di salvarli. Preghiamo, preghiamo tanto, perché finisca questa orrenda dittatura, ma preghiamo anche per le anime, le povere anime peccatrici, ingannate dal demonio, dei dittatori, dei tanti dittatori che stanno operando in Italia e nel mondo adesso, perché anche il loro cuore si possa ammorbidire e si possano salvare. Fede e cultura di Giovanni Zenone per conservare la fede, la ragione e il gusto della vita.